Nel giorno in cui è iniziata la distribuzione dei vaccini dell'antinfluenzale, a Lecce sono tornati a colpire Novax, con scritte oltraggiose contro i medici sui muri del Dipartimento di Prevenzione e dell'azienda sanitaria locale. Una scelta forse non casuale, considerando che in questa sede, tra le altre funzioni, si organizzano anche i vaccini. Gli autori hanno agito nella notte e di prima mattina, quando il personale si è accorto di quanto avvenuto, ha subito avvertito la questura. La polizia ha quindi avviato le indagini per risalire responsabili. Utili potranno essere anche le telecamere presenti in zona. Nel frattempo le scritte sono state cancellate. Da parte dell'ASL, profondo rammarico per il fatto. Delle scritte Novax, anche abbastanza antipatiche, coinvolgevano presunti danni subiti dai bambini per effetto dei vaccini. Ecco, credo che invece, come ha già detto il Presidente dell'Ordine dei Medici, la vaccinazione sia un atto di civiltà. Fa malissimo perché questo denota un'assoluta inconsapevolezza di tutto quello che abbiamo passato e di tutti gli sforzi che la nostra comunità medica, sanitaria e direi anche amministrativa, supporto, ha compiuto nel corso di questi ultimi due anni.